We don't know the future, but we own it In the jungle, we are the jungle Run, the jungle, life is a jungle In the jungle, we are the jungle Run, the jungle, life is a jungle In the jungle, we are the jungle Run, the jungle, life is a jungle Ben ritrovati amici di Inside Academy Eccoci qua con un'altra puntata del nostro format della nostra trasmissione che va ovviamente come sempre a raccontarvi la vita delle affiliate in giro per l'italia siamo alle ultime puntate prima di natale poi anche noi ci fermeremo chiaramente per le vacanze natalizie poi ci rivedremo a gennaio prima di fermarci però come detto ancora qualche puntata ce l'abbiamo e stiamo tenendo le cartucce importanti per questi ultimi momenti insieme di questo 2022 una cartuccia importante però la voglio sparare già oggi perché nella seconda parte avremo come da nostro classico format una filiata andremo insomma a scoprire come sempre come se la stanno passando ma nella prima parte era giusto dare il giusto momento e insomma il giusto saluto a jose la cagnina che è l'ultimo tecnico che doveva venirci ancora a trovare in questa fase di stagione di 2022 2023 in puntata allora eccoti qua super ospite ciao jose ciao ciao e benvenuti a tutti allora intanto ben bentornato più che benvenuto perché tu come sappiamo sei l'immagine del progetto udinese academy questo è il quinto anno insomma ti senti un po anziano hai fatto un lustro è con i colori bianconeri addosso si dai anziano no però sono contento comunque di far parte di questo progetto e di questa famiglia perché comunque mai sono cinque anni come detto tu che faccio parte di questo progetto udinese academy e mi fa piacere comunque perché comunque siamo un buon gruppo un buon team un buono staff che sta cercando di portare avanti questo progetto dove noi crediamo tanto e anche l'udinese crede tanto eh sì perché sono stati fatti davvero passi in avanti giganteschi soprattutto non perché io la conduco ma da quando abbiamo anche creato questa trasmissione e ho avuto modo io semplicemente per quello di vedere più da vicino questo progetto sto vedendo davvero grandi passi in avanti tra poco ne parleremo ti chiederò anche cosa ne pensi tu proprio del progetto no anche dell'idea di ridurre un pochino il numero di affiliate per dare maggiore qualità che è la cosa più importante per essere diversi da tutte le altre affiliazioni che esistono chiaramente con altri club in giro per l'italia prima però di arrivare a questo punto volevo un attimo chiederti come va sappiamo che per motivi tuoi personali nelle ultime settimane sei stato un po assente dai campi a breve dovresti anche tornarci però lascio lascio la parola a te raccontaci un po come come va il tutto come stai tu e insomma quanta voglia hai di tornare sui campi e dai purtroppo a inizio ottobre quando avevamo incominciato proprio le visite ho avuto un contrattempo fisico e mi allontanato dai campi per per qualche per qualche settimana adesso sto bene tutto procede per il meglio e io penso di già dei verso il 14 15 16 dicembre di andare con i miei colleghi che qui personalmente ringrazio che si stanno dando da fare Gigi Cuomo e Peppe Pisani perché si stanno occupando delle mie affiliate e loro verranno su qui in Veneto appunto a fare le visite alle mie affiliate io cercherò di andare con loro in questi tre giorni a dividermi e andare appunto nelle nelle società perché comunque voglio farmi vedere voglio tornare in campo voglio stare in mezzo ai ragazzi ai bambini e voglio tornare dove più mi compete Eh sì assolutamente direi che posso capire quanto ti manchi ascolta facciamo un attimo un riepilogo perché quest'anno lo sappiamo ci sono state un numero c'è un numero di affiliate leggermente inferiore rispetto a quello dell'anno scorso c'è un numero di tecnici che è stato ridotto da 4 a 3 perché quest'anno le affiliate friulane vengono seguite direttamente dagli allenatori delle giovanili dell'Udinese Calcio che è diverso come progetto da Udinese Academy quindi questo lo vogliamo sottolineare sempre tutta la stessa famiglia ma insomma due due zone separate un po' a sé stanti quindi quest'anno si uniscono sempre e le affiliate estere che purtroppo in questi mesi non hai potuto andare a trovare ma che a breve ti ospiteranno quindi insomma faccio un po' riepilogo della tua cartina geografica Sì diciamo che abbiamo più o meno 15 affiliate a testa io ho tutte le venete e quindi che più o meno sono 8 o 9 più ho due che vado in Romania una in Croazia poi ho una Bergamasca Calabrignanese e Fiorenzuola e le venete sono Bojon che è la nuova affiliata, Atletico Lissaro, Union Pro, Scorsè, Città di Paese, Strà, Ponte nelle Alpi e Godega Sant'Urbano e anche Porto Mansuè Ecco queste sono le mie affiliate e ripeto spero veramente di tornarci il primo possibile e mi ha fatto piacere comunque anche dei messaggi di stima da parte di queste società che ancora non sono andato a trovare o comunque anche di quelle che comunque sono da tanto nel nostro gruppo, nelle nostre società tipo Union Pro, Scorsè che mi hanno fatto sentire vicino la loro presenza Ma invece di quelle estere che cose mi racconti perché so che addirittura in Croazia dovevi andare se non erro anche in Romania un po' di giri Sì dovevo andare in Romania ne abbiamo due, abbiamo Accademia di Bucharest e poi abbiamo in Croazia Rieca e ripeto spero di andarci il prima possibile perché comunque è sempre bello andare in giro nelle società estere e portare il nostro progetto e vedendo come sono andati e come avevano proseguito il nostro percorso anche l'anno scorso tipo Accademia Didi io l'anno scorso avevo Accademia Didi, ho veramente voglia di rivederli e di rincontrarli Sì tra l'altro l'Accademia Didi di cui parlavi era anche venuta all'Academy League può essere, ecco vedi me lo ricordo bene Allora qua mi collego per chiederti un pochino, insomma dopo il successo dell'anno scorso le riporterai credo no? Anche alla seconda edizione dell'Academy League che si preannuncia più entusiasmante ancora della prima Beh certo dopo il grande successo dell'anno scorso spero veramente che ci saranno più affiliate ancora che parteciperanno a questa Academy League che si terrà in pari alla seconda settimana di maggio sempre a Cesenatico, l'anno scorso portare comunque una rumena lì a Cesenatico non era così semplice Io lo proporrò a tutte le mie affiliate e spero veramente e vivamente che parteciperanno con un gran numero di squadre e il numero di giocatori anche perché è un'esperienza unica, l'anno scorso io mi ricordo proprio impresso questa immagine che con tutta la pioggia che è venuta il giorno della presentazione i ragazzi se ne fregavano di tutta l'acqua che stavano prendendo ma erano entusiasti, cantavano, saltavano e poi giorni dopo, i giorni dopo comunque quando ci sono state le partite si è visto il loro entusiasmo, la loro voglia di partecipare e comunque la loro voglia di farsi vedere perché comunque è anche un modo per farsi notare e vedere anche dai vari osservatori che c'erano presenti a Cesenatico Eh sì, io c'ero, me lo ricordo bene quella quazzone mister, quindi noi c'eravamo possiamo confermare che tanta acqua ma sorrisi ancora di più, quindi davvero speriamo che anche questa seconda edizione vada alla grande. Ascolta, ti faccio una domanda adesso per entrare poi nel vivo del progetto, no? Perché tutte le riflessioni che vengono fatte, tutte le modifiche che vengono fatte sono realizzate per cercare di migliorare, no? L'idea di diventare da 4 a 3 tecnici, di ridurre un pochino numero delle affiliate per migliorare la qualità e tu, meglio di chiunque altro, forse puoi essere testimone di questa qualità perché tu hai avuto l'occasione di vedere, di visionare, di suggerire dalla tua affiliata l'Union Pro il ragazzino Leonardo Bottaro che adesso è stato preso dopo un paio d'anni di visione proprio nelle under giovanili dell'Udinese. Ecco, partendo dal discorso di Leonardo Bottaro per andare a finire, che ne so io, su un Simone Pafundi, ok? Che comunque come età non sono molto lontani. In generale le due domande che ti faccio nello stesso discorso sono quanto comunque sei orgoglioso, no? Perché alla fine non è che deve essere un vanto, ah l'ho visto io, però l'orgoglio per aver portato un ragazzo all'Udinese deve essere tanto, credo che questa sia la cartina tornasole del progetto Udinese Academy e di contro come si gestisce un grande talento che può essere Leonardo, che può essere Simone Pafundi o che può essere qualsiasi altro ragazzo in giro per l'Italia che è ancora un pochino magari troppo bravo per giocare con i giovani, troppo piccolo per giocare con i grandi. Quindi come si gestiscono questi ragazzi così talentuosi per fargli rispettare tutte le tappe e per non essere né quelli che non fanno mai giocare i giovani ma nemmeno quelli che li bruciano? Beh cerco di risponderti alla prima domanda, sicuramente mi fa piacere che Leonardo sia stato preso all'Udinese comunque dopo due anni di trafila, due anni di provini, due anni di raduni e quindi sicuramente sono orgoglioso di questo, non è che l'ho visto io però sì io l'ho notato, poi tramite anche il nostro responsabile tecnico Furio, tramite grazie anche ad Alec Bolla, dopo vari provini e raduni è stato scelto anche dal responsabile settore giovanile, signor Trevisan. Quindi sicuramente mi fa piacere questo. Ed è una delle cose che il nostro progetto Udinese Academy ci teniamo particolarmente, il far vedere e mostrare che comunque noi siamo presenti in tutte le società. Noi speriamo ancora di trovare nuovi bottaro, speriamo ancora di trovare magari come hai detto tu il nuovo Paffundi. Io sicuramente ci sono altre persone più adatte a me che possono dire che possono aiutare i vari bottari e i vari ci sta più intorno, ci sta più dietro a questi due ragazzi. È logico che Bottaro ancora deve crescere nel 2008. Simone Paffundi comunque ha già fatto una bella esperienza con l'allevale primavera, addirittura ha fatto l'esordio l'anno scorso in prima squadra, addirittura ha fatto una buonissima, secondo me, quei 5-10 minuti che gli sono stati offerti, offerti tra virgolette, perché tutto va meritato in nazionale. Io quando è entrato in nazionale ero contentissimo, poi vedere un ragazzo nel 2006 che in quei 5-10 minuti ha dato veramente il massimo, ha cercato… era come se giocasse ancora, diciamo, tra virgolette, nella primavera, era come se fosse nell'oratorio, si stava divertendo lui. Sembrava che non pensasse neanche all'esordio, a un'emozione del genere e quindi secondo me l'umiltà sicuramente è il primo piano di stare coi piedi per terra, ma penso che questo glielo avranno detto in tanti, di stare coi piedi per terra, di ascoltare sicuramente tutte le persone che gli stanno intorno, che lo possono aiutare a crescere sia tecnicamente, sia fisicamente e soprattutto caratterialmente. Ma ti ripeto, vedendo quei 5-10 minuti che ha fatto il nazionale, secondo me è sulla buona strada. Io spero che lui abbia altre occasioni di farsi mostrare, di farsi vedere, soprattutto magari nella prima squadra dell'Udinesa, mi piacerebbe vederlo in campo più spesso, però sono cose che mi piacerebbe, posso sognarle io, ma poi chi, ripeto, ci sta più vicino a lui sicuramente valuterà il momento, i tempi che potrà fare una partita in prima squadra. Assolutamente, proprio riguardo a questo tema Sottil ha predicato molta, molta calma, quindi io credo che, come dici tu, ci voglia la giusta dose di equilibrio, come in tutte le cose, quindi io mi fido di Mister Sottil, tutti noi vorremmo vederlo in campo, se al momento ancora non sta giocando, perché davanti intanto a giocatori che sono fortissimi e poi perché ci vuole ovviamente un po' di tranquillità, un po' di tempo. Siamo in chiusura, dimmi, dimmi José. Ricordiamoci che ha 16 anni, quindi c'è ancora tanta strada davanti a sé. Ne ha 16, no? Ne ha 16, questo ragazzo qua. È vero che Musiala ne ha 19 e gioca da 3 anni, però sono altri contesti e non tutti sono uguali, quindi insomma, Pafundi può essere un Musiala per le qualità che ha, ma ci vuole ovviamente il giusto equilibrio. Secondo me già dal prossimo anno potrebbe magari essere un cambio quasi stabile a partita in corso. Mister, siamo in chiusura di prima parte. Prima di salutarti però non posso non chiederti una cosa. La squadra che fin qui, nei gironi, quindi parlando anche un po' degli ottavi, ai mondiali, ti è piaciuta di più, è quella che ti ha un po' deluso. Forse sulla delusione vado facile sulla Germania, non lo so, però volevo avere una tua lettura, perché poi le gare da dentro fuori sono tutte un po' strane, ma nei gironi magari se qualcuna ti ha sorpreso o deluso. Beh, allora sicuramente tra le sorprese, non tra le sorprese, tra quelle che mi aspettavo che facessero un buon campionato del mondo, la Francia, il Brasile, mi sta deludendo un po' l'Argentina, anche se è andata ai quarti. Di quelle che mi hanno deluso, sì, tu hai detto la Germania, però c'è anche il Belgio che io mi aspettavo sinceramente qualcosina di più dal Belgio, perché hai vari Lukaku, ha dei giocatori importanti e quindi mi aspettavo sinceramente qualcosina di più da parte loro. Ci sono delle sorprese come ci può essere il Giappone, come ci può essere il Marocco, quindi secondo me è un campionato che ancora deve, secondo me, deve ancora crescere. Entrare nel vivo. Sì, sì, sicuramente nei quarti vedremo delle squadre che saranno secondo me anche più accorte. Gli piace giocare ad alcune, tipo Brasile, ieri, l'altro giorno vedevo che comunque gli piaceva, giocano molto sull'allegria, no? Per loro il gioco del calcio è allegria e fantasia, però quando dopo entri nel vivo, come dici te, nelle quarte semifinali, voglio vedere un po' se fanno tutti quei balletti o no. Vedremo, vedremo quello che accadrà. Però è vero che Brasile e Francia sembrano assolutamente le squadre da battere. Mister, io ti ringrazio e ovviamente spero di vederti presto. Intanto, con grande piacere, ho avuto proprio voglia di aprire con te questa puntata. Grazie per essere tornato a trovarmi, anche se a distanza. Io ringrazio voi per avermi dato questa puntata, di farmi vedere, comunque di far vedere che sto bene, che mi sto riprendendo. E, ripeto, spero di venire il prima possibile, di andare il prima possibile nelle mie società affiliate. Così tolgo anche un po' di lavoro a Gigi Cuomo e a Beppe Bisani e soprattutto di tornare a trovarvi in sede. Va bene, va bene. Jose, tante care cose. Intanto buona settimana. A presto. Ciao. Un abbraccio a tutti. Ciao e grazie. Grazie a José Lacagnina per la sua ospitata in questa prima parte di Inside Academy. Adesso però, come sempre, diamo spazio a un'affiliata perché è grazie a quelle che il progetto esiste, che il progetto nasce e continua sempre a migliorare. Ci spostiamo a Udine, andiamo a trovare vicino a casa nostra, vicino alla nostra sede, l'affiliata credo più vicina che si potesse trovare. Parliamo dell'affiliata udinese Udine United e allora do il benvenuto al presidente, Elio Moretti. Benvenuto, presidente. Grazie, a voi. Allora, io vi conosco bene, quando ero più giovincello vi ho affrontati da avversario tante volte, non ho mai giocato con voi, nel senso che più di una volta stavo per venire da voi, alla fine le strade nostre non si sono incrociate, ma vi ho sempre stimato e adesso lavorando il vostro campo l'ho bazzicato per più di un'occasione. Perché, e poi ne parleremo, sappiamo bene che l'anno scorso voi avete ospitato la cavalcata stratosferica della primavera proprio dell'Udinese, avete ospitato i nostri summer camp, siete un'affiliata da quello che mi dicono tra le più attive di tutte nel progetto. Io però, prima di arrivare a toccare questi temi, volevo chiederlo un pochino nella sua figura, nel suo ruolo, da quanti anni fa il presidente e insomma come procede, come sta la sua società. Bene, allora guardi, innanzitutto voglio salutare tutti gli spettatori dell'Udinese Academy, poi vorrei salutare tutti i miei ragazzi e i genitori in particolar modo, le famiglie e tutti i miei collaboratori che ne ho tanti. Senta, io sono dal 1980 che faccio il presidente, prima con la gloriosa società Forti Liberi, che si giocava sempre al Pepo Ovest, ora si chiama Capo Casale. Ed è stato un momento per me, un imprenditore, avevo quasi 60 dipendenti, di evasione, perché un imprenditore quando ha tutti quegli anni là, tutti i dipendenti, purtroppo impegnato. Però mi creda, è stato il momento migliore della mia vita quando ho potuto fare il presidente e rimanere con tutte queste grandi famiglie che si è composta, Udinese United, Lise Gormor, e ho piacere collaborare perché questa zona mi ha dato tanto, con i supermercati che avevo, e pertanto sono orgoglioso di poter collaborare e formare i nipoti e i figli dei vecchi giocatori. Immagino, immagino che poi, ovviamente io negli anni 80 non c'ero, ma all'inizio degli anni 2000 c'ero, quindi io ho visto tutti i miglioramenti che sono stati fatti in questi anni, penso al campo in sintetico, penso agli spogliatoi rinnovati, ecco, come si fa a continuare a portare avanti un progetto con amore, con dedizione e a continuare a farlo crescere? In una realtà comunque piccola. Esatto, guardi, posso dirle anche un po' di fortuna, perché io ho fatto da imprenditore, non avevo la cultura del settore specifico della formazione del calcio, e neanche non sono un tecnico, però ho avuto la fortuna, quando ho fuso la Forte Liberi e i Rizzi, con il vecchio precedente Fantin, ho trovato in quelle file un certo signor segretario, che non mi viene sul nome adesso, il quale era stato un deus machina, pertanto, perfino al 4 agosto del 2020, lui aveva in mano tutta la logistica specifica per i campionati, per le iscrizioni, Vittor Tosoratti, mi è venuto sul nome, cosa vuole, da 80 anni si perde anche memoria, e il signor Vittor Tosoratti è stato un deus machina che per 30 anni, 25 anni, ha fatto tutto lui per quanto riguarda, io facevo l'amministrazione, firmavo in banca, era responsabile come precedente, però come le dicevo prima, dal 4 agosto del 2020, per cause che non vado a spiegare, purtroppo mi ha dato le dimissioni e mi sono trovato con questa grande famiglia, cosa succede? Nella vita bisogna avere anche coraggio, perché se non è rischio non è risultato, strada facendo in quegli anni ho cercato di arginare le moragie più grosse, però mi sono incontrato, come le dicevo, mi aveva anche fortuna nella vita, e ho trovato il direttore del settore giovanile dell'Udinese, il signor Trevisan, il quale, mediante un mio collaboratore, in quel periodo aveva bisogno dei campi, perché il Dacia era chiuso, e tutto il settore giovanile l'ho ospitato nei tre campi che avevamo. E da lì è nata questo, che io da bambino in su, ho amato sempre l'Udinese, perché era nel cuore, e ha trovato una porta aperta di collaborazione in questo modo, e questo signor Trevisan, credetemi, è stato quello che mi ha illuminato, e più di tutto ho avuto la fortuna di avermi portato in cordata due personaggi meravigliosi che mi hanno realizzato, che sarebbe il signor Trezza Salvatore e Mario Nardella, i quali con la loro esperienza stiamo navigando abbastanza bene, mille problemi come al solito, perché se non sono problemi non sono neanche risultati. Esatto, eccoci, questa è stata la mia fortuna che oggi come oggi stiamo luttando, stiamo andando avanti con 310 tesserati di settore giovanile, senza la prima squadra. Eh, direi numeri importanti. Ascolti, ma... C'è un'altra cosa, la fortuna da imprenditore, siccome la mia fortuna nella vita è fare debiti. Dopo, se il signore mi ha aiutato ad aver saluto a pagarli, avevo 65 dipendenti, pertanto puoi immaginare, ho fatto il debito di 200 mila euro, ho fatto il sintetico che lei prima mi diceva, e questo è stato il fiore all'occhiello, grazie a Tosorati Vitor che è stato un Deus Machin in quegli anni, un sette anni fa, e insieme abbiamo fatto questo sintetico, abbiamo fatto 200 mila euro, di cui 70 però ci ha dato la regione, e 130 stiamo pagando ancora, che sono rimasti 23 adesso, e questo, diciamo, è l'imprenditore che ha capito, ossia si è messo a servizio al sociale. Eh sì, no, su questo assolutamente bisogna avere il fiuto, l'occhio e capire come funzionano le cose, e come dice lei, anche rischiare un po'. Ascolti, ma lei che mi ha parlato di settore giovanile dell'Udinese, di questa collaborazione nata con Angelo Trevisan, Trevisan, l'anno scorso, dicevamo, la primavera ha fatto un'annata incredibile, ecco, quanto è stato orgoglioso di aver ospitato la primavera nell'anno in cui e poi ha vinto il campionato? Guardi, sono stato orgoglioso per tanti motivi, prima perché dalla seconda categoria sono passati in prima, vuol dire che il capo Casal ha portato fortuna alla primavera dell'Udinese, poi avevamo un campo, grazie al signor Varei, che aveva il compito di preparare i lavori, avevamo un manto meraviglioso. Questo ha fatto conoscere la società e più di tutto anche l'impianto sportivo del comune di Udine, che grazie a loro che hanno investito parecchi soldi anni fa, che ci hanno fatto le tribune fotovoltaico e più spogliatei e spogliatoi, e pertanto io devo ringraziare molto il comune, perché questo Peppovest deve ringraziare le amministrazioni sia di destra o di sinistra, che io non vado a vedere i colori perché un commerciante ha bisogno di tutti a 360 gradi, e devo dire grazie perché mi sono stati vicini e mi hanno aiutato. Assolutamente, tra l'altro poi, come dicevamo, voi siete in primissima fila anche per i summer camp, e io sono venuto quest'estate ogni giorno con i miei operatori a filmare per fare gli speciali televisivi dedicati ai vostri summer camp, io li ho visto divertimento, gioia e tanta spensieratezza. Con i dronchi, ci ha fatto una pubblicità enorme, che dall'altro si vedeva questi bambini, tutta la struttura, ho avuto veramente soddisfazione poter vedere il lavoro di una vita, posso dire 40 anni che è una vita, per gli sociali. No, no, veramente contenti, noi spero che lo siate ovviamente anche voi, infatti vi faccio questa domanda qua, come sta procedendo il progetto, le visite tecniche, l'affiliazione con Udinese Academy, come la sta vedendo? Tutto bene? Io ho la fortuna di vedere due cose, quella della scuola a calcio con il professor Messina, quella nazionale, e poi anche i professionisti dell'Udinese, pertanto abbiamo due correnti che formano i nostri ragazzi in linea tecnica e mi auguro anche che abbiano salute, diventare dei personaggi che domani ci paghino la pensione. Direi assolutamente sì. La domanda che vi faccio è, voi ci sarete all'Academy League, il torneo che raggrupperà tutte le affiliate che si disputerà a maggio 2023? La seconda edizione? La prima edizione l'abbiamo partecipato. Ci sarete anche la seconda? Se non la facciamo. Madonna, lo faremo. Anzi, è un orgoglio competere a livello nazionale. Bene, bene, sono assolutamente contento. Ascolti, voi avete rifatto tribune, spogliatoi, campo sintetico. Basta, avete fatto tutto quello che potete fare. No, no, no. Avete altri progetti. No, 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 no. No, non ci si ferma. A piedi ho tre bandi. Ho fatto un primo bando che era partito da Tosorati Vitor nel 19, che stiamo ultimandolo e sono l'istrutturazione dei fari, del campo di sfogo e più il 50% fatto sul campo a 11. E adesso, mediante il precedente Brenno Lean, ho avuto un 40 mila euro di contributo e stiamo arrivando col comune che spero mi dia una mano a 75 mila perché purtroppo i prezzi sono cresciuti. Però il primo step lo stiamo trattando con l'ingegnere Jesse della Regione per poter arrivare a avere il 100% dell'illuminazione. E poi il campo sintetico. Abbiamo vinto l'unica società in Regione, su 48 partecipanti. Abbiamo vinto un bando di 617 mila euro, di cui 8 mila ne metto io, la società non io, mi scusi. E il resto, 609, lo mette il Ministero del Sport e Salute con Spadafora, con il signor Spadafora. Beh, direi che altro che fermarsi, qua si procede spediti per migliorare ogni volta di più. Ed è giusto così. D'altronde, insomma, mi ha convinto in questa chiacchierata. Quindi, no, complimenti, complimenti veramente. Allora, io sono arrivato in chiusura di trasmissione. Le faccio i complimentissimi per il suo coraggio, per la sua voglia di rischiare, per tutto quello che fa per la sua società e non solo. E a questo punto, io, insomma, mi auguro di incrociarla presto. E poi, ovviamente, il circoletto rosso sul calendario, come appuntamento finale di questa stagione, anche se siamo solo a metà, sarà l'Academy League. Quindi, là poi ci troveremo. La chiusura là. Io vi ringrazio per la disponibilità che avete avuto. Vi ringrazio anche a tutti. E mi auguro di avere ancora un po' di salute. Non dico tanti anni, però per poter pagare i debiti e stare ancora vicino ai giovani. Assolutamente. Lo ringrazio per tutta la famiglia dell'Udinese. Se lo merita. Grazie, grazie. Porteremo i vostri ringraziamenti. E in bocca al lupo per tutto, Presidente. Grazie. Alla prossima. Alla prossima. Ciao. Questo era il grandissimo Presidente Elio Moretti. Davvero un uomo che ci dà voglia di sognare, di fare qualcosa di grande, così come voi, amanti di, amici di Insight Academy. Ovviamente, se si chiama questa trasmissione dove nasce il futuro, è ovviamente anche legato strettamente al discorso dei sogni. E allora voi, ovviamente, ragazzi, continuate a sognare. La seconda parte di Insight Academy si conclude qui. Questa puntata di Insight Academy si conclude qui. E noi ci vediamo alla prossima settimana. Grazie, come sempre. Ciao.